L'appuntamento che apre di fatto il porto turistico di Pescara alle manifestazioni dell'estate, dell'estate 2019, sotto costa, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di navigazione. Assolutamente, apre diciamo la stagione estiva per quanto riguarda gli appuntamenti della Marina di Pescara, ma è anche uno dei venti principali su cui la Camera di Commercio di Pescara e ora la Camera di Pescara ha scommesso e scommetterà anche nel futuro, perché è un evento che coniuga più aspetti. Abbiamo l'aspetto tecnico con gli espositori della nautica, abbiamo l'aspetto ludico e mi riferisco alle tartalughe caretta caretta che in giornata verranno rimesse in mare dopo essere state curate dei veterinari da parte del Centro Studi Cetacei. Mi riferisco agli appuntamenti che sono stati organizzati dal Consorzio di Tutela Vini d'Abruzzo per le degustazioni serali e da Fermenti d'Abruzzo per quanto riguarda le birre artigianali. Ma andiamo a sposare anche temi che sono legati alla biodiversità e all'ecosistema marino, perché per la prima volta avremo una collaborazione con Lega Ambiente Abruzzo che si fa promotore di un convegno sull'impatto dei rifiuti marini, sulla biodiversità, organizzato anche in collaborazione con l'Ordine dei giornalisti. Avremo anche un premio per il design della nautica, andremo a premiare Fulvio Di Simone che è uno dei più grandi progettisti navali. Avremo inoltre una carrellata di quelle che sono le nuove tendenze del design nautico e della progettazione nautica, questo con l'Università Europea del Design. Quest'anno ricordano i 500 anni della nascita di Leonardo da Vinci e c'è un evento che è legato alla presentazione della figura di Leonardo come progettista nautico, questo è un aspetto poco conosciuto che verrà messo in evidenza. Grazie. Grazie.